La sensazione è stata almeno per un giorno quella di vivere in una città normale, un desiderio sembrerà banale, che gli aquilani inseguono da ormai 18 lunghi mesi. La città è tornata a vivere una domenica di sole, anche se le temperature hanno dato un assaggio d'inverno, con una serie di manifestazioni che hanno offerto l'opportunità a grandi e piccoli di riprendere possesso dei propri spazi, quelli della vita reale, ben lontana da quella a cui il sisma ha costretto decine di migliaia di persone. Attraversando Corso Vittorio Emanuele si percepiva ieri una gran moia di tornare ad incontrarsi per strade e piazze e non in una galleria commerciale, centro storico in maso di persone richiamate dalla golosità dei prodotti presenti all'anteprima dell'Euro Chocolate, cioccolato di ogni tipo negli stand di Piazza Duomo presi da salto alle prime ore della mattina, dove hanno trovato spazio anche prodotti dolciari della tradizione locale. C'è stata data la possibilità di questa vetrina con prodotti del cioccolato, abbiamo fatto anche dei prodotti appositamente per questa occasione, dei liquori al cioccolato, delle confetture. Gli scorci più belli del centro storico poi sono stati raccontati matita alla mano da un vasto gruppo di artisti giunti all'Aquila da ogni parte d'Italia per raccontare la città in modo del tutto inedito. L'ambizione degli urban sketchers, disegnatori metropolitani e la tradizione più plausibile è quella di raffigurare la culla d'arte, come l'ha definita il critico Antonio Gasbarrini, in modo più incisivo, trasmettendo magari con l'aiuto del chiaroscuro e del colore sensazioni profonde talvolta difficili da cogliere con l'obiettivo fotografico. Il progetto, intitolato una carriola di disegni, è già portato in città gruppi di disegnatori che hanno raccontato le ferite del sisma e la voglia di rinascita, un modo in più per far conoscere la realtà aquilana fuori dai confini regionali, visto che gli schizzi di acquerelli sono già stati esposti in varie parti d'Italia.